Rendere gratuiti pedaggi sulle autostrade A24 e A25, due infrastrutture fondamentali per 113 comuni di Lazio e Abruzzo. Il senatore del Partito Democratico abruzzese, Michele Fine, è tornato a sollecitare il governo intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, accusando al tempo stesso il senatore Guido Liris di Fratelli d'Italia. 5 maggio 2022, leggo dal sito fratelli d'Italia.it, Fratelli d'Italia chiede agevolazioni tariffate per i pendolari dell'A24 e A25. Non è accettabile che in Italia ci siano delle zone dove si viaggia gratuitamente, come previsto sull'A22 per gli abitanti di Bolzano, grazie a Fratelli d'Italia, mentre i concessionari incassano, come nel caso della strada dei parchi, circa 180 milioni di euro dai pedaggi. Fratelli d'Italia è sempre stato attento a queste problematiche, dopo aver partecipato con i sindaci, ai presidi, presso i caselli autostradali, oggi ha incontrato nuovamente gli stessi amministratori locali per dare loro sostegno e per chiedere al governo di prevedere per i residenti di quelle aree di percorrere gratuitamente le A24 e A25, così ripagarli delle sofferenze vissute fino ad oggi. Presidente, io sono umanamente solidale tramite lei, al senatore Liris, che è costretto a dire il contrario di quello che dicevano il 5 maggio 2022. Il senatore Demma Abruzzese, fra l'altro, aveva presentato un'interrogazione all'attenzione del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, chiedendo di conoscere il programma complessivo di interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture autostradali sulla A24 e A25, che ricadono per la quasi totalità in zona sismica 1, dunque con sismicità alta, aveva detto FINA.